Ciao ragazzi, eccoci qui con un nuovo loquendo con Assassin's Creed. E sì, mi sono un po' rotto il cazzo di realizzare loquendo su GTA San Andreas, altrimenti loquendo diventavano un po' monotoni. Colgo la possibilità di augurarvi buon 2017 a tutti, mi raccomando bevete champagne e fate sesso a volontà con delle belle porcellone da paura. Scherzi a parte, non avevo mai pensato di realizzare un loquendo per Assassin's Creed, è la prima volta che ne loquendizzo uno. Spero che questo anno sarà pieno di eventi positivi e magari se le situazioni miglioreranno, proveremo altri nuovi videogiochi. Nel caso se nei prossimi mesi riuscirò a comprare una PS4, potrò fare un loquendo anche su qualche gioco a piacere mio. Buon anno a tutti. Intanto parlando parlando, ho ucciso un templare del cazzo e ho scalato un muretto del cazzo. Questo gioco sembra basato in un parkour. Ma che cazzo ci vuole per scalare questo muretto di merda? Mi incazzo sempre quando non riesco a fare cose al posto giusto al momento giusto. Vabbè ci sono riuscito XD. Mi sento più figo quando nascondo in un fieno ASD. Scusate, ma non so che cazzo fare, non faccio altro che scalare muretti del cazzo a scopo di cazzeggiare. Mi sto annoiando, non so cosa fare, mi sto muovendo come un coglionazzo di qua e di là senza fare un cazzo. E intanto continuo a fare il figo, scalando muretti di qua e di là. Minchia, dovevo fare il parkour al posto dell'assassino, sono troppo figo. Solo che questo gioco è basato sugli assassini che vengono da un lontano passato, in quei tempi doveva ancora esistere il parkour. Spero che non vi sto annoiando con questi discorsi, in questi tempi non riesco a inventarmi e battute nuove per realizzare un loquendo. Per farvi strappare un sorriso dalle vostre facce di cazzo che avete. Scherzi a parte, il video non sta durando molto ma in compenso mi sono messo a realizzare questo loquendo. Spero che vi piacerà. Come potete vedere, sto aiutando un civile che è in pericolo da questi celibrolesi dei templari. Forza, fatevi sotto. Vi impulerò con questa spada che ho comprato a 5€ si bei. E con dei coltelli, comprati dal tizio della Masterchef. Bene, il video giunge al termine, nel caso se conoscete un gioco da loquendizzare, scrivetemelo nei commenti, così mi metterò subito a realizzarlo un altro come questo. Ciao! E lasciate un like a questo video. Chi non lo fa, farà la stessa fine di questi templari. Asawa shasua 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 son terribile. Chi non lo fa, farà la stessa fine di questo. Chi non lo fa, farà la stessa fine di questo.